Il tavolo sull'edilizia giudiziaria si istituisca presto e in prefettura a Bari, non a Roma. A chiederlo il sindaco Antonio De Caro a seguito dell'incontro avuto ieri con il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe. La conferenza permanente per l'edilizia giudiziaria è tornata a riunirsi proprio ieri in corte d'appello e i vertici degli uffici giudiziari baresi hanno ribadito la necessità che si trovino i fondi per risolvere il problema. Ad annunciare il tavolo sull'edilizia giudiziaria Bari è stato sabato scorso il ministro della giustizia Andrea Orlando, giunto nel capoluogo pugliese in occasione del congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. Incontrerò i capi degli uffici per cercare una risposta in tempi celeri, ha garantito precisando abbiamo questa questione in mano da un mese e mezzo, nel senso che fino ad oggi la competenza non era del ministero ed oggi dobbiamo rimontare una situazione che vogliamo affrontare perché crediamo che ci siano tutte le condizioni per risolverla. Il sindaco De Caro aveva scritto al ministro Orlando la scorsa settimana, evidenziando come l'esercizio della funzione giudiziaria Bari fosse in seria difficoltà perché è esercitata in una molteplicità di luoghi sparsi sul territorio comunale, in alcuni casi insufficienti e inadeguati. De Caro sottoponeva al ministro il progetto del polo della giustizia nelle due caserme dismesse Capozzi e Milano, oggi nella disponibilità del demanio, da assegnare in uso non oneroso al ministero della giustizia. Secondo il progetto il comune di Bari si occuperebbe invece delle varianti necessarie per realizzare gli uffici da destinare a polo giudiziario. Lo studio di fattibilità, sottolinea il sindaco nella lettera indirizzata ad Orlando, ha già raccolto il consenso della commissione di manutenzione presso la Corte d'Appello di Bari e ne è seguita l'istituzione di un tavolo tecnico. Dal primo settembre però la competenza è passata nelle mani del ministero e per questo si impone un suo intervento diretto. Quanto alla disponibilità di risorse, Orlando ha dichiarato i fondi in qualche modo credo tutti quanti faremo uno sforzo per trovarli. Comune e regione credo che potranno dare una mano.